Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio Pianale Qui è sempre Uchika Gimer che vi parla E siamo tornati su Dragon Ball Sparking Zero Siamo qui nella saga di Freezer O comunque nella saga di Namek Perché qui c'è un what if che ancora Non ho capito come si fa Quindi ci voglio provare Insieme a voi e poi andremo Avanti con i vari what if Dei vari capitoli sempre con Goku Quindi dovrei aver Initato anche forse la trama Di Goku per quanto riguarda Super quindi iniziamo qui Il capitano Ginyu finisce Intrappolato nel corpo di una rana e Goku E' salvo Goku usa la macchina medica Per ristabilirsi ma presto sente Vedete gli altri combattere nelle vicinanze Nel frattempo Vedete gli altri percepiscono Nel loro avversario una potenza enorme Molto superiore alla loro Proprio mentre Freezer mette in mostra Tutta la sua potenza Goku si riprende completamente Quando Goku arriva sul luogo della battaglia Vegeta è in fin di vita A causa degli attacchi di Freezer E così ha inizio lo scontro Tra Goku e Freezer E così ha inizio lo scontro ... per i miei i shocki I혜ci... ... per i miei i Trovie, or per i nemici! ... per i miei i raff imposti! Tiada in questo certo! Chiara, partiamo da ora! Oretano trauma! Volterà, ti vanno pronto! Vieni a te! 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 Come si è stato un po' di questo tipo di lavoro? Cosa? Noi! Ima no ha痛かった... ...ha... ...ha... Grazie a tutti! 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 Guarda che non va! Vai così! Se ci siamo... No! Oh... 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 Goku riesce finalmente a sconfiggere Freezer... Appena ha toccato terra... Gohan e gli altri... Lo acclamano accogliendolo... Oh... 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 E alla prossima con altri what if sempre qui su Dragon Ball Sparking Zero Ciao belli